La primavera ha ritrovato la testa che aveva perduto in estate. Il professor Rossi, sovrintendente alle gallerie, ci dice che la testa è proprio quella vera della statua del Francavilla. Quando 17 anni fa il ponte a Santatrini si fu fatto saltare, i pezzi delle statue che lo adornavano, opere pregevoli, la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno furono quasi tutti ritrovati. Ma la testa della primavera fu introvabile. Fu cercata in tutto il mondo ed era invece qui, a pochi metri dal ponte. L'hanno rinvenuta mentre dragavano l'Arno. Ora, se Dio vuole, è in Palazzo Vecchio, in consegna al sindaco. Sarà restaurata e rimessa a posto.